Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Come vedete, insomma, cerco di mantenere... Mazza, questa luce è veramente forte. Ok, puntiamola da questo lato, anche se poi non prende direttamente me. Perdonatemi ancora per questa qualità video un pochino bislacca. Sto registrando con la webcam del computer. In realtà ho una webcam, ma fatico a... ha dei problemi. Non riesce a riconoscerla, però ne ho già ordinato un'altra. Dunque speriamo dovrebbe funzionare meglio. Allora, come potete vedere già dal titolo, parliamo di Licantropus. Arrivo un pochino in ritardo, almeno qua su YouTube. In realtà ne ho già parlato... ho già fatto un articolo, lo trovate... una recensione, la classica recensione, diciamo, del prodotto. Forse così aiuta un pochettino di più, no? Lasciamo così, almeno il viso è illuminato, perché poi i frame un po' me li perdo. Dicevo... ho fatto già una recensione che potete trovare su thegamesmachine.it, insomma, so che a molti piace l'idea del voto, che c'è un voto. E poi sul... lo ripeto sempre, seguitemi sotto, ci sono tutti i miei social, perché ho fatto... di solito queste cose spicciole. Quando c'è un giorno, un orario, specialmente, con un embargo, riesco sempre a prenderlo con un piccolo video di due minuti scarsi su TikTok. E là, tendenzialmente, riesco ad essere sempre puntuale, quindi anche lì ne ho parlato. E quindi, insomma, intanto su questi... ripeto, se mi seguite poi su questi social, riesco ad avere... a darvi la possibilità di sapere qualcosa in anticipo, proprio sulla tabella di marcia, a seconda dell'embargo. Allora, nella mia bolla social ho notato un grande... grande interesse per questo licantropus, in originale, Werewolf by Night. Io, come dico sempre, non sono un grande appassionato, non seguo molto il mondo dei fumetti, potrebbe essere una mia mancanza, probabilmente, non lo so. Però i cinefumetti Home mi divertono nel modo in cui si pongono, nel modo anche in cui vengono realizzati, idealizzati. Non ho un patteggio per nessuna cosa. Qui su YouTube, anzi, avevo fatto anche una piccola digressione sui migliori film e i peggiori film del DCU, insomma, del film della DC. L'ho fatto per prima, semplicemente perché sono di meno. Devo fare anche... registrerò anche qui l'alpe per quanto riguarda la Marvel. Poi, ovviamente, non è stato un video molto visto, ma, ripeto, non mi importa molto di questo concetto. E quindi, nella mia bolla social, ho notato grande interesse per questo prodotto, quindi mi sono detto, bah, magari è qualcosa di interessante. Non sono, ammetto di non essere un grande fan della produzione Marvel, della tipica produzione Marvel, attenzione, non che non mi piacciono i film della Marvel, ma alcune volte il loro modus operandi, nel modo in cui viene idealizzato e prodotto un film, non mi piace. Paradossalmente, questa fase 4, che sta piacendo a pochi, io la apprezzo. La apprezzo un pelino di più. Certo è che, nell'apprezzarla, faccio fatica a seguire tutte le serie TV. Tutte le serie TV non ce n'è per ora una che me ne sia piaciuta. Forse è WandaVision, però WandaVision forse era un po' il primo esperimento. Dunque, quando è arrivata era qualcosa di nuovo, e forse era quella più, boh, in qualche modo anche più riuscita. Le altre le ho seguite, ma non sono mai riuscito a finirle. Cioè, non ce n'è una che sono riuscito a finire senza... Forse è Loki, Loki è l'unica che sono riuscito a concludere, però l'ho recuperata alla fine. Cioè, non sono stato lì settimana dopo settimana. E questo qui, quindi, questo Licantropus, diretto da Michael Giacchino, che è un compositore, secondo me è uno dei migliori compositori ancora in vita, non dico in vita perché è molto giovane, dovrebbe avere poco più di 50 anni. Ma è uno di quelli che ho visto crescere, perché io mi vedevo Alias, vedevo Lost, e tolto Alias, che è un po' più elettronico il suono, Lost ha tutte queste campionature fatte con il pianoforte di Michael Giacchino, che sono magnifiche. E poi ha filmato anche tutte le musiche del rilancio di Star Trek, che era molto carino il primo film. I puristi l'hanno odiato, i puri di Star Trek, io non sono un grande fan di Star Trek, però i film mi sono piaciuti, il primo e il secondo, quelli di J.J. Abrams, il terzo, insomma, un po' un pastrocchio, ma questo non era male. Ma non siamo qui a parlare di ciò. Ho fatto questa digressione sul Giacchino, perché lui è, oltre il compositore, è anche regista di questo speciale di Halloween, che è arrivato un mese prima di Halloween, all'incirca. Progetto sulla carta, comunque, sia che valeva l'attenzione, perché una puntata, anzi, non è neanche quell'idea da puntata, quasi da film da 50 minuti, che è inutile dire il film da 50 minuti. I film da 50 minuti si chiamano mediometraggio, usiamo la parola, esiste, cazzo. Non è un cortometraggio che dura 10-7 minuti, non è un lungometraggio che ne dura dai 90 in poi, dura a scarsi 49-50 minuti. Potrebbe essere una lunga puntata televisiva di un serial prodotto da HBO, per esempio, insomma, che punta sempre a un minutaggio al di fuori delle reti generaliste americane, in questo caso. E l'ho visto, anzi, come sempre so, eh sì, Sony, Disney mi ha dato la possibilità di vederlo in anteprima, e l'ho visto. E diciamo che il punto, non sarà molto lungo questo video, c'è questa cosa che un po' ho fatto fatica a entrare in sintonia. Nella mia bolla social c'era un entusiasmo alle stelle per questo prodotto, quasi fosse un prodotto attesissimo, perché noi sappiamo, perché il pubblico già sapeva cosa, di cosa, non tanto di cosa si sarebbe parlato, l'aspetto riguardo i mostri della Marvel, no? Ehm, però secondo me, Licantrobus raccoglie il meglio e il peggio della gestione Marvel anche a livello comunicativo. Cioè, io ho continuato a vedere nella mia bolla social che tutti erano lì a chiedersi, si vede Manthink, no? a questo mostro, che sembra un po' il corrispettivo, sapete, no? Marvel e DC si copiano a vicenda da 400 milioni di anni, sembra un po' il corrispettivo di Swamp Thing della DC. Cioè, fecero anche un serial che andò male, era molto bello ma andò male, ma più forse per decisioni dei capoccia. C'era James Wan dietro, non vorrei sbagliare. E quindi molte persone nella mia bolla social che io, ovviamente, nel momento in cui ce l'ho, assimilo, mi becco, diciamo, indirettamente le loro considerazioni, le loro attese, e tutti lì a fare tante pippe, si chiamano pippe mentali queste qua, perché ci sono i mostri nell'universo Marvel, perché nessuno li ha mai visti, perché adesso, quando poi hai un universo così espanso e così narrativamente composto da tanti film, la domanda è, ma dov'era quello lì durante Thanos? Dov'era quello? Insomma, non si può neanche andare avanti continuamente con queste cose. Dov'era quello? Dov'era quell'altro? Era in fila alla posta. Che doveva fare? E qui qualcun altro invece diceva, dunque, nell'universo Marvel ci sono divinità, titani pazzi, uomini miliardari, e i mostri? Ci sono i mostri? Ok, Licantropus da una parte cerca di dare questa risposta, i mostri ci sono, però c'è una gilda di cacciatori che li caccia, insomma, no? E qui, diciamo, c'è tutta questa piccola trama dietro Licantropus di questa gilda di cacciatori, dove il cacciatore supremo ha questa pietra, la Bloodstone, che dà questi poteri giganteschi. Il proprietario muore, e quindi viene indetto una sorta di cerimonia dove delle persone, dei cacciatori, i più forti cacciatori del mondo, vengono gettati in una piccola arena, una sorta di arena, e cacciare un mostro. Chi uccide il mostro ottiene la Bloodstone, e quindi diventerà il cacciatore supremo, più forte di tutti. Da qui poi c'è il personaggio principale, appunto, di Jack, mi sfugge già il nome, vabbè, di Guy Garcia, insomma, l'attore, che, insomma, dice di essere un cacciatore, ma lo è veramente. Perché dicevo che, secondo me, Licantropus si raccoglie il meglio e il peggio per quanto riguarda la Marvel? Perché gran parte dell'attesa di questo progetto era sui risvolti. Pensate, una cosa che io ho sempre detto, ma la Marvel, quando fa i film, non pensa mai ai risvolti sociali, anche di quello che fa. Poi è arrivato Civil War e ho detto, ok, ogni tanto fate queste cose qua. Però perché inscatolare e incorniciare un progetto sul concetto, scusate questo gioco di parole, di come si colloca questo all'interno del Marvel Cinematic Universe? Su TikTok qualcuno mi scrisse una roba che io, come dicono i giovani d'oggi, mi ha triggerato. Non ho sopportato una risposta del genere. Ovvero, non puoi più farti queste domande perché ora esiste il multiverso. Dunque, se tu dici che questo progetto ti è piaciuto perché è scollegato dal Marvel Cinematic Universe, cioè non è che ci sono riferimenti a Thor, Iron Man, no, non c'è nessun riferimento. Un riferimento iniziale in cui ti dicono ci sono gli eroi, fanno vedere la squadra classica degli Avengers, e sotto ci sono i mostri. Ecco, l'unico riferimento. E dunque, questa persona stava palesemente difendendo un mio... cioè, stava difendendo il progetto pur non avendo visto, perché era uscito il video un giorno prima dell'uscita, non capendo la mia critica. La mia critica era mi è piaciuto l'Icantropus Ni, cioè, è un progetto di cui ho capito la natura, il bianco e nero, omaggiare chiaramente tutti i sacri mostri della Universal e a tempo stesso tutti i film horror 30, 40, 50, insomma. È sicuramente una scelta estetica interessante, anche quella di usare tutto l'audio filtrato. È carina. Insomma, è qualcosa dove puoi sperimentare. Però, se ci fate caso, la Marvel in tutta questa fase 4 l'ha sperimentato. I fan più hardcore della Marvel sono rimasti molto delusi da questa fase 4, ma era palese. Cioè, non puoi ripetere quello che per me è stato il male, cioè, tre fasi tutte uguali. Cioè, sempre con tutti i film identici. Qui, devo essere sincero, ci sono molti film in questa fase 4 che mi sono piaciuti. Tutti quei film che alle persone non sono piaciute, paradossalmente. Black Widow a me è piaciuto molto. Shang-Chi mi è piaciuto molto. Tutti a dire che è una cagatina. Gli Eterni è carino, però si dilunga un pochino troppo. Però, insomma, se avete visto Twin Peaks stiamo lì. Ecco, sembra una grossa puntata supereroistica di Twin Peaks. Infatti, tutti hanno detto che è un film noiosissimo. Lasciamo perdere Taika Waititi mi sto rifiutando di vedere Thor, Love and Thunder perché ho mal digerito Ragnarok e non vorrei vedere Love and Thunder. Non me ne frega niente. Sono sincero. Dunque, in questo concetto di sperimentazione io mi sono detto ok, è carino questa cosa. Mi dispiace quello che dissi in questo video. Mi dispiace perché molto probabilmente tutti quelli che sono lì andranno a cercare i riferimenti non ne troveranno molti. E già vedo quelli che diranno ah, che schifo Kevin Feige ha detto così Kevin Feige ha detto colà. Parte di questi appassionati forti, hardcore che poi riempiono Facebook, Twitter, Instagram di queste cose partono da questa cosa del Kevin Feige ha detto. Ma Kevin Feige vi sta vendendo un prodotto come tutti i grossi imprenditori uno lo usa sempre l'esempio di Berlusconi però effettivamente Berlusconi è uno che ha venduto agli italiani di tutto che siano state cose vere o meno ma l'arte oratoria uno ce l'ha te la puoi anche studiare cercate di ottenerla quando sai imbambolare in un senso molto neutro diciamo le persone è chiaro che poi in un modo o nell'altro riesci a vendere di tutto recentemente è uscito il documentario su Vanna Marchi vedetelo quelle sono quelle persone che hanno un'arte oratoria incredibile che nascono così Kevin Feige sa vendere il prodotto e riesce a venderti anche un contesto nel caso a te quel prodotto non piace quindi uno potrebbe dire l'Elicantropus a me è piaciucchiato ma non mi ha lasciato niente cioè nonostante tante altre produzioni Marvel questa vedevo che la gente lo spingeva tantissimo era la chiave di volta per capire l'universo Marvel ma quanti altri film dovevano essere la chiave di volta per capire l'universo Marvel vi ricordate quando ci hanno venduto Captain Marvel come un film necessario per capire Avengers Infinity War Avengers Endgame una cazzata abnorme ma è marketing devi vendermi il film in qualche modo io l'ho sempre detto non sarà mai così effettivamente così è stato che Captain Marvel non aveva nessun ruolo all'interno dei due film minimo ma comunque sia non così importante tanto da portare un film come uno dei più brutti dei Marvel Studios come Captain Marvel a incassare più di un miliardo perché la gente diceva devo vederlo per capire Endgame o quel che sia Infinity War qual era e quindi insomma lasciamo perdere questi discorsi l'Elicantropus in qualche modo è molto piacevole nella sua visione molto piacevole nella tecnica Giacchino Rubicchia qualche idea non è un regista spero che non voglia diventare davvero regista perché queste persone che non nascono registi soffrono io ricordo sempre Wally Pfister storico direttore della fotografia di Christopher Nolan che quando ha lasciato la fotografia per mettersi a fare un regista fece quel Trascendence con Johnny Depp Morgan Freeman che c'era pure Cillian Murphy c'era una marea di attori un thrillerino molto poca roba flopone della Madonna e lui è sparito Wally Pfister non fa più niente mi sembra e parliamo di Trascendence dunque sono quasi dieci anni circa che Wally Pfister è sparito che peccato quindi Giacchino bravo continuo a fare il compositore perché almeno lì io non ti voglio perdere è uno dei migliori compositori ancora in vita è uno che potrebbe davvero prendere l'eredità dei più famosi Hans Zimmer o Williams insomma quindi nulla chiacchiere molto molto veloce non ho nient'altro da dire perché alla fine questo Licantropus è un po' anche una commedia no? poi alla fine vai a vedere anche su IMDB è segnato come commedia è un po' una parentesi è il classico speciale di Natale speciale di Halloween che tanti prodotti hanno e quindi è una parentesi poi magari qualcuno potrà dire questo lo riprendiamo con qualche film molti già io prevedevo questa cosa e infatti cosa è successo post uscita di Licantropus tutti a dire sì adesso non l'abbiamo capito ma probabilmente lo capiremo quando uscirà il film di Blade cioè capite dunque qual è il lavoro di Kevin Fish è vendervi qualcosa a mettervi in pausa nel caso non vi fosse piaciuto quel progetto e poter dire ecco lo vedi adesso bisogna andare a riprendere quel film precedente no? è un po' come quando ci dissero che dovevamo recuperare cos'è che dovevamo recuperare? all'uscita di una serie Marvel forse 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 VandaVision sì il marketing Marvel ci disse che noi dovevamo recuperare Age of Ultron un film dimenticabilissimo anche lì un film identico al primo Avengers che non aggiungeva niente però bisognava recuperare perché c'era Wanda bla 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 sempre solo discorso quindi alla fine è sempre difficile parlare dei prodotti Marvel perché c'è l'effettivo pensiero su un film da una parte e poi c'è il pensiero generale o il pensiero ideale possiamo dire quello che ti vende Kevin Feige adesso nella mia bolla social tutti a dire che bisogna attendere per dare un giudizio a Leicantropus perché bisogna vedere Blade ragazzi basta Leicantropus ha un inizio una fine ha un minutaggio secco si può tranquillamente dire che ha un progettino molto carino non è stato quel capolavoro che tutti continuavano a pompare che sarebbe stato un capolavoro ma su quale base perché Kevin Feige vi ha detto che il prodotto avrebbe dato la chiave di volta ma lo dice a tutti i film lo dice a tutti i film e quindi nulla ragazzi io vi saluto come vedete promessa mantenuta cerco di fare molti più video in realtà già domani questo lo faccio uscire adesso il 13 13 ottobre già domani forse uscirà una robina lato videogiochi un po' alla Giger un po' Alien insomma una cosa del genere e poi ho una marea di roba che devo fare perché il lato videogiochi diciamo che prossima settimana c'è una roba una settimana molto nerd perché ho God of Nights God of War che sto giocando Black Adam stanno uscendo dei rumor sulla scena post credit che insomma mi interessano molto e dunque vi invito sempre a seguirmi sui miei social per avere delle informazioni spicciole e velocissime qui su youtube in qualche modo cercherò di recuperare successivamente questi prodotti come posso tipo adesso l'icantropus l'ho recuperato una settimana dopo però su altri cercherò invece di uscire il giorno stesso e poi cos'altro poi ci vediamo tutte le mie social vi do input velocissimi e poi noi come sempre ci vediamo nei soliti prossimi video di tutte queste altre cose che arriveranno a breve ripartirò anche con twitch sto cercando di creare una piccola squadra di talk per portare gente e parlare di robe robe che sono chiaramente cinema cine fumetti perché piacciono a tutti in qualche modo devo fare anche un po' di pubblico dunque bisogna anche parlare di questi e lo dico sempre io non è che ci vado molto a nozzi con i cine fumetti però mi divertono quindi finché mi divertono va bene mi piace parlarne se poi arriva il tedio cerco proprio di abbandonare e perdonate ancora con questa qualità video spero già tra 2-3 video di ottimizzare sto aspettando che mi arrivi una nuova webcam che dovrebbe essere un po' più funzionale quella che ho adesso non funziona più è rotta di colpo ciao a tutti